I tre atti della Spister partono dal 1953, quando sulla base della 356 venne ideata un'auto semplice, pura e lineare. Nel 1988 la Spister ha celebrato la sua rinascita con un elemento di stile divenuto ora iconico. Per la prima volta il coperchio del vano capote aveva le doppie bolle. Nel 1993-94 la seconda fase evolutiva della 911 Carrera è stata inaugurata con una nuova Spister. Oggi la nuova Spister testimonia l'esclusività, la ricerca, l'intregante appeal di questo marchio.